Giunti a questo punto si iniziano a definire le tempistiche delle varie fasi, il cosiddetto piano di produzione, tenendo conto delle eventuali interferenze nelle varie fasi di lavorazione, in modo da avere anche le tempistiche il più preciso possibile di montaggio e smontaggio e contestualmente del numero delle persone da far alloggiare, a cui dar da mangiare, far accedere all'area, eccetera. Il tutto sempre con un occhio al budget. Un aspetto importante della logistica di produzione, quando l'evento è soprattutto sopra certe dimensioni, è la definizione degli accessi all'area, che non riguarda solamente le persone, ma soprattutto la movimentazione dei mezzi. In molte situazioni, per ragioni di tempo, lo scarico e il ricarico dei materiali dei vari reparti deve avvenire secondo uno schema preciso, il che vuol dire posizionare i camion o i mezzi in generale nelle aree di load-in e load-out. Potete facilmente immaginare la variabilità di questo segmento. Si può andare dalla piazza, dove si può arrivare facilmente al palco tramite accessi comodi, ad un'altra piazza dove arrivare al palco diventa un'impresa, perché bisogna passare per le stradine di un centro storico, fra i tavolini di un bar, girare attorno a una fontana, non fare investire l'edicolante e cose di questo tipo. Oppure dover accedere a un palazzetto che ha una sua area recintata e sgombra, ma solo un ingresso per il load-out o load-in. Oppure un altro tipo di palazzetto che ha un solo ingresso, ma lungo una strada, circondato da parcheggi pubblici. Oppure un magnifico teatro del 1812, gioielli che solo in Italia e in pochi altri posti possiamo vantare, a cui si accede da una scala ripida, due piani sotto, oppure da un montacarichi 3x2 dove stanno tre bauli alla volta, oppure una botola o un cunicolo, dovendo parcheggiare il bilico fuori dalla porta, in mezzo al mercato settimanale, possibilmente. Negli eventi più grandi, dove si può arrivare ad avere 8, 16, 40, 70 bilici, anche la parte relativa alle strade di accesso ed uscita, dove parcheggiare a mezzo in stazionamento, come fornire supporto agli autisti, cibo, docce, orarie di movimentazione, diventa una parte sostanziosa. Ah, le macchine altrui parcheggiate nei posti più fastidiosi sono uno degli incubi peggiori di chi fa questo lavoro. Una nota particolare va riservata alle difficoltà che si incontrano derivanti dal fatto che in Italia, ma non solo, le strutture nate appositamente per ospitare eventi di musica live sono rarissime. Nella maggior parte dei casi ci si trova a lavorare in strutture nate per lo sport o il cinema o il teatro ed adattate ad altre funzioni, tipo appunto la musica, con tutte le limitazioni che ne derivano, come ad esempio i percorsi per l'entrata e l'uscita dei materiali, le pavimentazioni non adatte a supportare i pesi strutture, le coperture fragili, il riverbero del suono, la lista infinita. Immaginate il mio stupore quando a città del Messico in tour con Laura Pausini per far entrare i bilici dentro l'area ho visto aprirsi, nel vero senso della parola, le pareti dell'arena. A più altezze, con tanto di ponti levatoi al primo piano, per non interrompere i corridoi che collegavano i vari uffici a quel livello. In Italia è più facile che succeda di arrivare in una piazza pubblica dove un'amministrazione comunale ha montato un palco, inglobando nella baia che ospita il PA la struttura in marmo di una sirenetta, nell'unico punto in cui si può agganciare il cluster audio per portarlo in quota, cosa realmente accaduta in una data denegrita in Sardegna. Oppure a Trento, il cui pavimento del palazzetto è una pista del ghiaccio che viene ricoperta da una seconda pavimentazione. Immaginate il dover stare tutta una giornata a lavorare con i piedi a pochi centimetri da una spessa lastra di ghiaccio. O infiniti palazzetti in cui il materiale deve essere movimentato lungo rampe ripide in cemento e magari piove. Oppure il dover raggiungere piazze in borghi il cui accesso avviene attraverso degli antichi portali in pietra per cui si rendono necessari dei trasbordi sui mezzi più piccoli, con conseguente aumento esponenziale di tempi impiegato, personale, mezzi e costi e fatica. Gli esempi sono infiniti. Quanto appena descritto, aiuta anche a comprendere le grosse differenze che possono esserci tra evento ed evento e l'impostazione sia a monte che poi in fase di svolgiamento. Alcuni show sono data unica, il che significa che tutte le attività previste riguardano un singolo spettacolo in una singola location. Generalmente, questo tipo di spettacoli prevedono una fase di preproduzione, che può includere uno o più sopralluoghi, una di allestimento, una prova generale, lo show o il disallestimento. La durata è legata sia a necessità tecniche che dell'artista, che economiche. Ovviamente, più giorni saranno necessari, più cresceranno i costi. Oppure, può essere parte di un tour. In questo caso, le fasi previste si moltiplicano per il numero delle tappe del tour e l'impostazione dell'allestimento e disallestimento deve essere pensata tenendo conto di doversi adattare il più possibile alle diverse situazioni che si incontreranno lungo il tour. Prima di tutte, la diversa tipologia delle strutture in cui si verrà ospitate. In questo caso, è prevista una fase di allestimento e prove tecniche, in cui viene montato lo show, vengono fatti tutti gli accorgimenti del caso, viene previsto un periodo di prove per l'artista ed una prova generale. Molto spesso, queste giornate di allestimento e prove vengono effettuato nell'avenio che ospiterà la prima data del tour, che viene definita anche data zero. Può però succedere che invece l'allestimento avvenga altrove. La durata di questa fase di prove varia a seconda dello spettacolo in sé e delle esigenze dell'artista, nonché legata a fattori economici. Nel caso di un tour, inoltre, si moltiplicano anche tutte le attività di interfaccia con le realtà locali. Diventa necessario in questo panorama anche dedicare diverso tempo ed attenzione al routing. A seconda degli orari di inizio di allestimento, alla distanza tra una data e l'altra, sia in termini di tempo che di chilometri, si dovrà infatti valutare le tempistiche di spostamento, gli hotel dove dormire, dove fermarsi eventualmente a mangiare. Se gli intervalli tra una data e un'altra sono di più giorni, va considerata l'opportunità di rientro a casa di tutta la crew e poi quindi la ripartenza per la data successiva. Tutte dinamiche, che oltre a incidere sul tempo, comportano delle spese che vanno stimate e rendicontate. Un altro aspetto molto importante in fase di preproduzione è la raccolta e condivisione delle informazioni relative all'ivenio. Va da sé che più si invecchia, lavorativamente parlando, più si ha avuto l'occasione di conoscere piazze, teatri, palazzetti, stadi, capannoni, eccetera. Ma siccome non si finisce mai di imparare ed il mondo è vasto, capita continuamente di trovarsi a dover lavorare in strutture in cui non si è mai stati prima. Nella maggior parte dei casi, la filiera prevede la presenza di quelli che vengono chiamati local promoter, ovvero colleghi che hanno la gestione locale delle strutture, che conoscono le dinamiche del posto, che hanno contatti radicati con i fornitori locali, che spesso entrano anche nell'economia del singolo spettacolo, rischiando la data, cioè pagando artiste e costi. In altri casi potrebbero non avere un convolgimento economico sulla riuscita dello show, ma limitarsi a fornire servizi locali a pagamento. La distinzione tra le due posizioni dipende dagli accordi presi a monte con l'agenzia che rappresenta l'artista. In entrambi i casi, comunque, i local promoter sono dei riferimenti preziosi per la raccolta delle informazioni, sia sulla struttura ospitante, che sulla viabilità e parcheggi, gli orari da rispettare, dove mangiare, eccetera, e le tempistiche. Ogni direttore di produzione acquisisce nel tempo un archivio di informazioni, disegni, contatti, che sono indispensabili per snellire il lavoro il più possibile nell'impostazione delle attività e che aiutano a stimare velocemente eventuali criticità. Un altro strumento molto valido in questa fase è il confronto con i colleghi, sia del team coinvolto, ma anche colleghi amici, che abbiano già avuto modo di realizzare eventi in quelle strutture e che possano passare le informazioni con occhio già esperto. Una volta definita la parte artistica, che si tramuta in parte progettuale, si impostano i disegni relativi al layout del palco, quando non standard, all'insegno delle luci, del video, al progetto audio. Oltre alla definizione del materiale è necessario alla realizzazione dei vari disegni. Un'altra parte molto importante è rappresentata dall'individuazione del posizionamento dei materiali e dall'impatto che hanno i loro pesi, soprattutto in appendimento. Il palco, ad esempio, a seconda della sua grandezza, avrà un peso che andrà a scaricare sul pavimento e che dovrà tenere conto anche di eventuali strutture e scenografie che vi verranno appoggiate. Quindi, oltre a verificare che la struttura in sé sia adatta a sostenere i pesi in appoggio, bisogna verificare che il peso del palco, con quanto appoggiato sopra, sia sopportabile dalla pavimentazione in cui ci si trova a montarlo. Tema che nei palazzetti, soprattutto anche nei teatri, merita particolare attenzione perché può portare incidenti anche gravi, come si è già tragicamente verificato nel passato. Anche la parte relativa alle forniture, luci e audio può essere formata da materiali in appoggio e o appendimento su quelle che vengono chiamate americane e che vengono appese o direttamente alle coperture dei tetti delle strutture oppure a delle strutture ad hoc come ring, portali, ground support, T-mobili, eccetera. Analoga situazione per gli impianti audio i cui cluster che possono prevedere una distribuzione in più punti per far sì che il suono copra il più uniformemente possibile l'area interessata dal pubblico hanno sia elementi in appoggio che sospesi a seconda del progetto audio. Tutti questi pesi, dicevo, vanno individuati ed inseriti in un progetto che per la parte appesa viene detto dei carichi sospesi. Una volta definito il posizionamento dei materiali si procede anche alla redazione di un progetto elettrico che oltre a descrivere il percorso che effettueranno i cavi di collegamento ne calcola l'assorbimento e quindi di conseguenza la richiesta di fornitura elettrica necessaria al funzionamento delle macchine. Fornitura che deve essere stabile e sicura per evitare interruzioni durante lo spettacolo cosa che sarebbe ovviamente gravissima. I progetti, dicevo, sono redati da professionisti abilitati incaricati di volta in volta con il quale il direttore di produzione si interfaccia costantemente. Anche qui, a seconda della dimensione del luogo in cui lo spettacolo si svolge, possono essere necessarie ulteriori documentazioni integrative quali ad esempio la relazione dell'impatto acustico. Una volta determinati gli aspetti di cui stavamo parlando arriva anche il momento della parte di cantiristica. La maggior parte degli eventi necessita di mettere in moto anche tutta la parte burocratica relativa sia all'ottenimento delle licenze di pubblico spettacolo sia alla gestione del cantiere che riguarda le fasi di allestimento e disallestimento. Per questa parte, essendo richiesta tutta una serie di documentazioni redatte e firmate da tecnici abilitati, che è sostanziosa, ci si affida solitamente a dei professionisti che se ne occupano nello specifico. Ai quali però è necessario trasmettere tutta una serie di informazioni specifiche relative alle tempistiche, tipologie delle lavorazioni, ditte e maestranze coinvolte, con la conseguente distinzione tra appalti e subappalti, eccetera. Questi professionisti avranno anche poi il compito formale di verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto e lo svolgersi degli eventi, a partire dall'inizio del montaggio. Ci avviciniamo così al momento in cui tutta la parte di preproduzione è stata impostata, inclusi eventuali sopralluoghi. Si è parlato già per ore e ore con la propria crew, gli ingegneri, i professionisti, le agenzie, e i fornitori e ci si avvicina allo spettacolo. Con un certo anticipo si imposta quello che viene chiamato rider, che riguarda tutte le necessità tecniche logistiche di hospitality, eccetera, che vengono richieste localmente e che, a seconda degli accordi in essere, vengono trasmesse ai local promoter. Generalmente riguardano tutta la parte di materiali, servizi e personale che non è possibile, per infinite ragioni, tra cui quelle economiche, portarsi al seguito. Il rider serve inoltre a trasmettere le informazioni relative al materiale in tour e che fino all'ultimo potrebbero subire delle variazioni e conseguentemente aver bisogno di nuove attenzioni. Come la volta in cui, in partenza per il tour di Caparezza, mi chiamarono per dirmi Ah, Capo ha fatto costruire un cane a tre teste, tre teste, in cartapesta. Dobbiamo trovare il posto per trasportarlo. La mia prima risposta fu gli metteremo un guinzaglio e ci fermeremo in autogrill a fargli fare la pipì. Poi però, naturalmente, il posto abbiamo dovuto trovarlo, anche perché era più grande di una smart la bestiola. Una nota. Nel caso in cui lo spettacolo sia gestito direttamente dall'agenzia committente, ossia da quella per cui il direttore di produzione sta lavorando, la parte che è in carico al local promoter ricade invece sul direttore di produzione stesso, che quindi dovrà occuparsene direttamente, sempre con i suoi collaboratori, inteso. Quindi, ad esempio, che lo show sia Napoli, Milano, Roma, dovrà mettersi in contatto con la ditta che fornisce i facchini, stabilire le modalità, i contratti, invece di poter delegare al local promoter la gestione di queste attività. Sempre con un certo anticipo, ma minore, si iniziano a trasferire a tutte le persone coinvolte nello show le informazioni specifiche, quali il piano di produzione, che include i giorni e gli orari di convocazione, il personale locale richiesto, i macchinari in supporto se previsti o meno, l'avvicendamento dell'attività dei vari settori, gli orari dei pasti, gli orari delle prove dell'artista, gli orari di accesso del pubblico, della durata dello show, di inizio di esallestimento e fine dei lavori stimata. Quello che in sostanza in altri settori è chiamato cronoprogramma. Comunica la logistica della CRIU, cioè quando si parte, con che mezzi, dove si dorme, dove si mangia, si parcheggia, eccetera, e varie, date dalla specificità dell'evento o della tappa del tour. A questo punto è arrivato anche il momento di fare la valigia e partire per essere pronti all'orario concordato davanti al portone della struttura in cui si svolgerà lo spettacolo. Ricordandosi di segnarsi bene il numero di telefono della persona che aprirà il portone perché succede spessissimo di arrivare lì e trovarlo chiuso, nonostante l'aver concordato e comunicato gli orari d'ingresso con anticipo. Insieme al direttore di produzione davanti al portone dovranno esserci la parte di crew convocata in quell'orario, i facchini locali, eventuali mezzi in appoggio tipo muletti, gru, cherry picker, eccetera, il generatore se previsto, i rigger, gli elettricisti, i runner, eventuale service locale, tutte insomma le maestranze e i materiali che serviranno per la realizzazione dello spettacolo. Da questo momento in poi se tutto è stato fatto con criterio ognuno si occuperà della propria parte trovando di volta in volta le soluzioni ottimali per rendere il lavoro il più fluido, snello e rapido possibile e concentrarsi sul gestire eventuali variabili della struttura o gli imprevisti. I camion vengono messi in posizione, si fa un giro di ricognizione dell'area, il materiale viene scaricato e smistato nelle aree dove poi ogni squadra possa raggiungerlo e dall'iniziare le fasi di montaggio chi si occupa della zona camerini ne prende possesso ci si riembocca le maniche e si inizia la giornata. Quando l'evento supera certe dimensioni oltre alle attività che gravitano attorno al palco ci saranno anche tutta una serie di attività collaterali da dover coordinare tipo la mappatura dell'aria, la definizione degli spazi degli allestimenti le attività di allestimento delle strutture che non riguardano solo il palco ma ad esempio la zona catering il compone degli uffici i camerini i bagni i flussi di accesso ed il flusso del pubblico il posizionamento delle biglietterie dei punti food and beverage aree stoccaggio materiale eccetera le giornate a volte scorrono senza intoppi altre volte si è meno fortunati e sono necessari continui accorgimenti mediazioni a volte discussioni e altre problematiche non dimentichiamo che in questo lavoro i tempi sono spesso molto stretti non c'è molto margine per poter intervenire qualora ci siano dei problemi e quando questi emergono perché capita il tempo di reazione deve essere immediato perché la sera lo show deve essere pronto e deve avere inizio non si può pensare ah questo lo si fa domani anche per questi motivi un buon affiattamento della crew e dei buoni rapporti con i local promoter sono aspetti molto importanti per far sì che le giornate scorrano in maniera il più fluida possibile non mancheranno momenti di discussione stanchezza divergenze di veduta materiale che si rompe e va sostituito incomprensioni da risolvere pranzi e cene saltate discussioni con i vigili del fuoco alla polizia o i responsabili delle strutture la giornata del direttore di produzione infatti è occupata anche da tutta una serie di relazioni ed attività di interfaccia con i local promoter e le autorità locali rappresentando sul posto l'artista e l'agenzia deve coordinare ed agevolare le attività degli altri reparti quali la biglietteria l'ufficio stampa il marketing il fan club e nel momento in cui arriva l'artista deve potergli riferire che tutto va bene sottolineare eventuali variazioni rispetto allo standard comunicare eventuali problematiche e lasciare comunque il tempo per le prove musicali deve inoltre costantemente riportare al committente l'andamento dei lavori non dimentichiamo che la responsabilità del far sì che ogni cosa venga fatta con criterio nel rispetto delle normative e tenendo conto della necessità delle parti coinvolte ricale sul direttore di produzione che deve sempre quindi avere sott'occhio ogni aspetto ed intervenire con azioni correttive dove dovesse essercene il bisogno il che vuol dire in certe situazioni limite anche dover prendere decisioni difficili che possono avere grosse conseguenze anche a livello economico da quel momento in poi è un conto alla rovescia per le ultime cose da sistemare fino a quando verificato che tutto sia pronto e tutti siano sistemati si può dare l'ok per l'ingresso del pubblico e da lì a poco per l'inizio dello spettacolo e la magia inizia il periodo dello show si vive sempre con della tensione perché tutto deve proseguire da copione finché non arriva la fine dello spettacolo l'artista saluta il pubblico le luci si spengono tutti vanno a casa e per tutta la crew inizia la parte dello smontaggio perché mica è finita per tutti quando lo show finisce a questo punto c'è da coordinare come al montaggio ma al contrario la parte di smontaggio delle strutture dei camerini il riavvicinamento dei mezzi per il ricarico le maestranze locale eccetera finché anche l'ultimo baule è sul camion e la crew può andare a dormire dandosi appuntamento alla prossima occasione comune se la data è singola oppure alla data successiva se si è in tour il lavoro del direttore di produzione prosegue comunque anche nei giorni successivi dovrà infatti pianificare e verificare la chiusura delle forniture il rientro di tutto il materiale delle persone verificare consuntivi aggiornare costantemente il budget verificare la cassa delle spese sostenute fino alla chiusura totale delle attività legate all'evento e spessissimo in simultanea è già impegnato sul lavoro successivo siamo giunti al termine di questa chiacchierata che spero aiuti a darvi un'idea di questo ruolo è una realtà complessa ma molto stimolante fatta di giornate problematiche che vengono ripagate nel momento in cui si accennano le luci e il pubblico inizia a urlare applaudire stupirsi è sicuramente un lavoro che bisogna amare perché non concede sconti spero quindi di trovarvi presto attorno ad un palco ah dimenticavo se dopo un po' che siete in questo settore che voi siate direttori di produzione fonici light designer eccetera se i colleghi vi attribuiranno un soprannome qualunque sia tirate un sospiro di sollievo vuole dire che siete ufficialmente parte del sistema il mio è la preside e l'e